Il Dipartimento di Economia si trova in Biasidio d'Amico 77, nella sede della Scuola di Economia e Studi Aziendali in Zona Schianza a Roma. La struttura è moderna e funzionale, con ampi spazi di parcheggio e collegata con la rete in bus metropolitana e ferroviaria. Il Dipartimento offre ampi spazi per studiare, socializzare e vivere l'università da protagonisti. La Biblioteca offre una ricca dotazione di collezioni a stampa e di risorse elettroniche consultabili anche da remoto. Il Laboratorio Informatico offre oltre 80 postazioni di lavoro, con computer dotati di programmi scientifici e didattici, utilizzabili per esercitazioni o per la didattica scientifica. Le aule sono state dotate di attrezzature tecnologiche per effettuare lezioni streaming e lavagne grafiche per le lezioni in modalità mista. Gli studenti non sono mai lasciati soli e possono contare su un'ampia rete di sostegno e tutoraggio didattico e amministrativo. Gli studenti senior svolgono attività di sostegno per gli studenti nuovi immatricolati lungo tutto il loro percorso di studi. Abbiamo tutorato didattico, sportello di orientamento e sportello per i principali adempimenti amministrativi. La comunità del Dipartimento è sempre aperta al confronto. Collaborazione, dialogo, fiducia e inclusione sono i nostri principali valori. Vieni a studiare a Roma 3. Troverai spazi accoglienti e funzionali ed un'offerta completa di corsi di laurea triennali, magistrali, master ed opportunità di ricerca post laurea.